Quindi intanto il rumbo che sentiamo di sottofondo è quello del trofeo a presidere MS 250. Per me oggi è una giornata davvero molto speciale. Oggi sono venuto a trovare i ragazzi del campionato italiano Aprilia Sport Production. Siamo a Varano, i ragazzi ce l'hanno già dimostrato quanto valgono e ce l'hanno fatto divertire tantissimo. Lavorerò con dei piloti giovanissimi che partono dagli 11 anni e sarò il loro coach. Aprilia torna in pista con un campionato dedicato ai più giovani. Questo campionato italiano Aprilia Sport Production è un progetto che la federazione ha condiviso con Aprilia con molto entusiasmo perché riporta un grande gruppo industriale dello sport giovanile per cercare di alzare il livello sportivo e anche allargare la base di partecipazione. Finalmente Aprilia torna con un campionato che mancava da tempo. Il campionato italiano Aprilia Sport Production ha sfornato i più grandi campioni italiani e oggi qui a Varano sto vedendo delle cose incredibili. I ragazzini sono forti, vanno veloci e soprattutto si divertono. È quel campionato che permette di passare da un contesto piccolo come un cartodromo a un contesto grande come un autodromo, quindi velocità più alte, spazi più grandi. Qui è tutto più in sicurezza e fatto apposta per chi vuole imparare. Aprilia Sport Production è un'esperienza veramente forte perché dà il senso della squadra. È il tassello mancante. Ho pensato subito che era la strada migliore per la crescita di mio figlio dal punto di vista agonistico, ma secondo me di tutti i piloti che passano dalle ruote 10 pollici intermedi al 17 pollici, senza dover andare su categorie tipo Premoto 3 che hanno un costo veramente eccessivo per dei bambini di 12-13 anni e che insegnano al bambino ad andare in moto perché sono moto vere, è lo step che mancava. Ci portano per fare la spesa, cucinare per 30 persone, lavare i piatti, sudare, sparecchiare, però ci vogliono bene e quindi noi veniamo volentieri. La cosa fondamentale è che si diverta. Ci supportiamo a vicenda facendo le manne. La cosa importante è andare forte e divertirsi. Ma intanto la posizione è giusta perché comunque i gomiti in carena vanno sotto il serbatoio e ti riesci a chiudere bene. Ben arrivati, adesso facciamo il nostro giro di pista a piedi e andiamo a vedere questo nuovo circuito. Fate la prima fase di curva con il gas puntato. A un certo punto quando avete svoltato, alzate la moto e poi iniziate a darlo. Ciao ragazzi, vi ho portato una sorpresa oggi qua a Varano, vi ho portato la mia superbike con la quale ho vinto il campionato italiano. Chi di voi vuole salire in sella? Sì, sono pronto, dai, speriamo bene. Hai già la strategia in mente e tutto? Sì, sì, dai. Come pensi di affrontarla? Allora, sono molto teso perché è la gara decisiva. Fino all'ultimo giro ci siamo superati sia sul curvone sia tutto rettilineo con le scie, è stato bellissimo. Mi dedico la vittoria ai miei amici e alla mia famiglia. È stato bellissimo. Fantastico. L'esperienza più bella della mia vista. Un campionato che consiglio a tutti ed è davvero molto molto divertente. Il campionato ideale per crescere. Sicuramente divertente. Lo consiglio a tutti perché è un bellissimo campionato. Agguerrito. C'è competizione ma anche amicizia. Questo campionato è stato molto bello e combattuto. Un'esperienza da provare. Campione italiano. Vi abbiamo raccontato questa strepitosa annata dell'Aprilia Sport Production. Tutti giovani piloti e aspiranti campioni siete avvisati. Stay tuned. Ciao! Grazie a tutti.